colombia e scultura un applauso a gloria mendoza che introduce questa meravigliosa serata evviva colombia grazie aldo buonasera a tutti benvenuti benvenuti in colombia questa sera faremo un fantastico viaggio per i caraibi colombiano per cosa per festeggiare insieme a tutti voi insieme colombiani presenti a tutto il pubblico anche non colombiano italiani tutti gli amici latinoamericani la festa di indipendenza della colombia il 20 luglio che per noi è qualcosa di molto speciale questa sera abbiamo degli artisti eccezionali abbiamo un gruppo che ha vinto il grammi latino come miglior album di musica tradizionale questo gruppo che ha fatto il giro del mondo rappresentando la colombia particolarmente la cumbia che il nostro ritmo tradizionale più autentico e la musica de gaitas sono los gaiteros de san jacinto prima di loro abbiamo niente meno che 28 ballerini e musicisti della compagnia di danza nazionale folcloristica colombia amica loro sono i musicisti che li accompagnano questi bellissimi ragazzi qui davanti e i ballerini sono pronti per farvi vedere il meglio del nostro caribe colombiano questo è il nostro cappello tradizionale dell'atlantico me lo metto così entro in sintonia subito con l'argomento come ha fatto aldo anche e cominciamo signori questa sera con colombia amica e un limo un fangango web l'argomento c'è Brincola殺ò Mio Sierra desires di fare El paese me cantono non ti possiamo guardare Iris Church Sp 401 che viene a amare La barranda è da l'aria Good name, good name e fire Che non fiscalzza Poi fooled befazò Mio Sierra Good name, good name e fire Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.